Sono Gualtiero Anselmetti della SAD, sono il responsabile vendita e marketing. Finalmente un evento per l'audio-video italiano. Siamo veramente contenti di aver partecipato in quest'anno sì e l'anno scorso siamo venuti a curiosare solamente. Quest'anno vediamo che è diventato un evento importante e nella nuova nostra veste di distributori siamo felici di partecipare e di presentare ai nostri partner, clienti e spero nuovi clienti tutte le novità che abbiamo portato con i nostri marchi principali, a partire da Televic che presenta il suo nuovo sistema di conferenza multimediale con il display touch per la gestione documentale durante le riunioni, ovviamente l'hondipresente ClearOne che porta audio e videoconferenza e gli altri marchi importanti, Epifan, TLS, Creator, Kenses. Insomma, la nostra vocazione è quella di aiutare il System Integrator e fornire, come potete vedere dietro di me, un servizio, una progettazione ed aiutare a trovare la soluzione giusta per il cliente finale. Sia essa una soluzione tradizionale, video, normale, analogico, digitale, oppure una soluzione innovativa sui pin. Grazie. 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 Grazie.